Sì, posso confermarvi che Icar Casillas sarà nella lista dei convocati domani. È molto migliorato nell'ultima settimana, ha dimostrato di voler dare il massimo per la squadra. Ieri per esempio abbiamo fatto una partita 11 contro 11 ed ha giocato molto bene. Noi siamo contenti di riaverlo ad alti livelli, soprattutto perché questi due mesi saranno molto importanti. Abbiamo una finale da giocare, una gara di ritorno in Champions e teniamo le dita incrociate. Se ci qualifichiamo ci giocheremo alle semifinali, quindi avere Icar è una garanzia.